...e un'altra vita, un po' di vita, un po' di vita. Mittera numero 39, ora vediamo la Bürgerkapelle Sterzing. Ora rimaniamo intorno al Piteeno, abbiamo proprio la banda cittadina che sono qui per noi. Questo invece, il loro costume è più simile al costume tradizionale di un gruppo musicale alto appesino, anche appunto quello dei gruppi meranesi è molto simile. Appunto come precedentemente detto, nella economia mineraria della Val Ridana.